Parliamo di raccolta differenziata, di un processo abbastanza lungo, innanzitutto mentale proprio come approccio, come forma mentis, certamente l'impegno, gli sforzi di Chima Ambiente Ami, le difficoltà, gli errori che rientrano in un quadro fisiologico, ma anche l'apporto e il supporto delle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Ho qui a fianco Vittoria Orlando, che è presidente dell'associazione Proluco di Lama e delle sue contrade. La sua associazione come si sta muovendo? Perché, ripeto, l'attività, la funzione di sensibilizzazione e di educazione della cittadinanza è fondamentale. È certo, infatti stiamo collaborando a un progetto di Chima Ambiente proprio per sensibilizzare, supportare la popolazione per adesso nel borgo, però anche con altri tipi di eventi, supportiamo la popolazione nella raccolta differenziata. Non tanto nella sensibilizzazione, perché in teoria moltissima gente è abbastanza addentro, però è come si fa la raccolta differenziata, perché ci sono ancora molti e molti dubbi, che comunque infisciano l'esito della raccolta differenziata, che è importantissima per Taranto, perché stiamo cercando negli ultimi tempi di risalire faticosamente la China, che ci ha visto maglia nera della raccolta differenziata, che non è soltanto una questione economica, è anche una questione soprattutto ambientale, perché i rifiuti, come un boomerang, si rivoltano contro di noi e ci ritornano nell'alimentazione, nell'aria che respiriamo, più discariche ci sono e ci ritornano anche come attività criminale, quindi legate ai rifiuti, quindi noi ci crediamo molto in questa cosa e cerchiamo di coinvolgere soprattutto i più piccoli, perché da piccoli che bisogna lavorare, perché questa città diventi una città a rifiuti zero, naturalmente è un obiettivo molto molto ambizioso, però qualche cosa si incomincia a vedere.